Le agenzie di viaggio di Pesaro si sono radunate questa mattina in Piazza del Popolo per manifestare lo stato di disagio di una categoria strangolata dalla crisi derivata dal Covid-19. Agenzie presentatesi in piazza armate dei bilanci in rosso del 2020, delle prospettive nere per il 2021 e delle rimostranze verso un comune che decide di sgravare di tasse le attività nascenti con un diverso trattamento per quelle esistenti. Queste le criticità esternate in una manifestazione che ha avuto il fuori programma dell'incontro con il sindaco Matteo Ricci, incontro dai toni piuttosto accesi col sindaco che ha dissentito sulla modalità di una protesta che non ha seguito le normali procedure di rappresentanza. Bastava una telefonata o bastava prendere un appuntamento a stigmatizzato il primo cittadino che ha poco gradito il presidio sotto il municipio. Fatto sta, le parti sono arrivati a programmare un incontro. Abbiamo un appuntamento per lunedì, quello che chiediamo è molto semplice, non siamo fino adesso stati ascoltati, le varie mail che abbiamo inviato non hanno mai ricevuto risposta e chiediamo di essere ascoltati, di avere l'esenzione e le tasse per tre anni come è stato dato alle nuove imprese. non ci sembra giusto che alle nuove imprese vengano tolte per tre anni le tasse e noi che siamo nel territorio da anni e che siamo in netta difficoltà con fatturati a meno 90% non veniamo ascoltati e dobbiamo comunque pagare le varie tasse comunali. Oggi siete venuti anche armati di cartelline con tutti i rendiconti di quello che è stato questo annato terribile e di quelle che sono le prospettive. Esatto, esatto, i risultati sono su carta, se l'anno scorso in questo periodo eravamo già un milione e mezzo di fatturato, quest'anno siamo a 160 mila euro, quindi parliamo di un calo intorno al 90% e io sfido chiunque, qualunque imprenditore ad andare avanti con questi numeri, cioè considerando che tutti i dipendenti sono a casa, in cassa integrazione, non abbiamo la certezza sulla cassa integrazione, sappiamo che finirà a fine novembre, non abbiamo la certezza se poi continuerà, non abbiamo nessuna certezza, non sappiamo quando la gente potrà ripartire e continuiamo a pagare gli affitti, continuiamo a pagare la luce, continuiamo a pagare le varie bollette, circa 10 mila euro al mese continuiamo a pagare con un futuro che non è certo. Il sindaco poco fa non ha assolutamente contestato le vostre motivazioni che vi portano qui, ha magari discusso il modo in cui vi siete presentati, un problema di rappresentanza che forse è stato un difetto in questa comunicazione tra categoria e comune. Purtroppo su questo ha perfettamente ragione, non posso dare torto al sindaco perché comunque come agenzie di viaggio di Tesaro, come agenzie di viaggio di se per sé non abbiamo mai avuto una rappresentanza e non siamo mai stati rappresentati, però non è giusto che ad una richiesta di un cittadino e quindi di un'impresa, una richiesta via mail ma non una sola richiesta, varie richieste via mail, non siamo mai stati ascoltati, siamo stati ricevuti solamente nel primo consiglio, subito all'inizio della crisi e poi niente di più, i tavoli anticrisi non siamo mai stati chiamati, mai stati contattati e questo non è giusto perché comunque siamo sempre 25-30 attività per un totale di circa 100 dipendenti, comunque non è corretto che passi tutto così.